Eccoli qui, ragazzi dell'audacea all'inizio della stagione, eccoli qua c'è il capitano, anche Matteo Colangione, amico Maricone, potrei prendere il capello, il capello. Allora, ragazzi, capitano, siamo all'inizio di una bella stagione da volentare. Sì, una bella stagione, una bella stagione del posto. Senti, avete rispettato dove non siamo i pievoli? Dai, grazie. Dai, avete rispettato dove non siamo i pievoli? Siamo grandi, siamo grandi. Adesso si comincia a passare in serio. Non ti lasceremo mai. I pievoli fanno parte del giro, adesso facciano le partite vere, quelle serie. Dall'altro diciamo che l'ambiente è abbastanza caldo da quello che si sente. È abbastanza caldo, speriamo di tenerlo più caldo possibile fino alla fine. E quest'anno è più duro rispetto all'anno scorso. C'era un alto campionato, più duro. Speriamo di fare bene e di vincere questo campionato. Grazie. Adesso, è un grande, Mimmo. Vengiamo, Mimmo. Sto bene, è bellissimo.